Bene, qual è il metodo di seduzione del take away? Take away significa porta lontano, spingi lontano. È una variante del metodo push-pull ed è utilizzato, funziona molto bene per sedurre le donne, soprattutto per sedurre quelle donne che sono molto corteggiate, che vengono cercate da molti uomini, perché consente contemporaneamente di effettuare sia un'interruzione di schema, sia di, diciamo, creare attrazione perché ci autoproclamiamo, diciamo, di valore superiore, tra virgolette, alla donna e ad altri uomini, soprattutto anche ad altri uomini. Come funziona questo metodo? Beh, farò un esempio. Supponiamo che siamo in un locale, da qualche parte stiamo parlando con una donna e cerchiamo nella prima fase di entrare in sintonia con questa persona, quindi utilizziamo tutte le varie strategie della programmazione neurolinguistica, come il mirroring, il ricalco verbale, cioè utilizzare le sue parole, cercare di ricalcare i canali comunicativi, se prevalentemente visivo, uditivo, cenestesico, in modo tale da creare un rapport con questa persona. Rapport che poi dovremmo, diciamo, interrompere utilizzando un'interruzione di schema. Arriviamo a un certo punto che quando lei in qualche modo si sente corteggiata e quindi abbiamo creato un picco in un senso, andiamo a dire, ad esempio, una frase, ma tu sei single? E lei ci risponde, sì, sono single. E noi diciamo, beh, sì, anch'io. Beh, senti, visto che sei single, guarda, c'è un mio amico che sta cercando proprio una fidanzata, penso che una come te potrebbe piacere, di caso mai te lo presento. Magari ci scambiamo anche il numero di telefono oppure ti lascio il suo così se vuoi chiamarlo. Una cosa del genere. E in questo modo andiamo subito a interrompere lo schema. Lei si sentirà spiazzata, noi acquisiremmo valore perché verremo etichettati di valore superiore ad altri uomini, nel senso che siamo noi a procacciare praticamente donne agli amici, che significa che quello da solo non è capace, devo cercare di averla io, quindi automaticamente vengo classificato come di valore superiore, quindi maschio alfa, e anche di valore superiore alla donna di fatto, perché comunque io non sto a corteggiare una come te. Questo funziona molto bene, soprattutto, ripeto, con le donne che sono molto corteggiate. Ci sono molte varianti di questo metodo che possono essere usate. Io adesso ho fatto un esempio, ma le varianti sono talmente tante, sono moltissime e dipende un po' dalla fantasia e dalla prontezza dei riflessi della persona. Provate per credere. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog http-vulvo-seudottinavip.com. Ciao!